...d'avere le palle per farlo. Quindi l'ha fatto. Come ha detto, questi uomini sono qui per aiutarci. Signor Cison. Mi chiamo Sam Cison. Sono un delegato di giustizia di Wichita, Kansas. Sono anche ufficiale di pace e autorizzato per i territori indiani, Kansas e altri otto stati. Ora, quello che è appena accaduto, è stata solo una schermagna. La vera battaglia deve ancora venire. E l'idea è che quando verrà, sarà alle nostre condizioni. Alle nostre condizioni. Voi forse non conoscete poco. Si, tornerà con 200 uomini e ci massacrerà. Se volete andarvene, andatevi. Ma prendete solo ciò con cui siete arrivati. Per tenervi la città dovete combattere. Gli aiuteremo, ma voi dovrete aiutare noi. Per vincere ci sarà bisogno di tutti. Buon Dio, state dicendo che dovremmo aspettare qui la sua reazione? Certo, è chiaro. Cosa? Lasciateli venire, saremo pronti a ricevere. Chiedo scusa, signore. Lo spirito qui è pronto.